Una vittoria bellissima che ci dà grande soddisfazione, un a zero che alla fine ci sta anche stretti perché abbiamo avuto tantissime occasioni a gol, non abbiamo permesso nulla al Maglie grandi tutti, grande il misto e grande tutta la squadra, grande anche il pubblico che continua a seguirci certamente io mi auguro che alla prossima partita in casa il pubblico sarà ancora più numeroso visto che ormai la salvezza è raggiunta, manca pochissimo, forse per la matematica manca solo un punto quindi invito tutti, tutti i massafresi, sicuramente faremo una grande festa perché sarà il quarto anno che faremo l'eccellenza